Ed ora diamo il benvenuto alla nostra ospite in studio, Francesca Viccardi, la prima donna sindaco di Sesto e Duniti. Buonasera e benvenuta. Grazie, buonasera. Ecco, la prima domanda che le rivolgo, dopo ovviamente le congratulazioni per la vittoria, è quali sono le sue priorità ad oggi? Innanzitutto, venendo da un'amministrazione ormai decennale, come avevo già detto in campagna elettorale, che mi sarebbe piaciuto, e così ho la possibilità per farlo, proseguire in tutte quelle opere che erano state appaltate nella primavera scorsa, una fra tante, la riqualificazione del tetto della scuola primaria. Quindi sicuramente portare a compimento quegli appalti e poi intervenire su tutte le aree di intervento nella pubblica amministrazione. Quando abbiamo steso il programma elettorale abbiamo individuato ben sette aree che vanno dalla scuola fino al sociale, passando per la viabilità e l'ambiente. Per cui tutti questi, cammin facendo in questo quinquennio, cercheremo di affrontarli e di intervenire puntualmente. Ecco, un po' l'ha detto già anche lei. La sua nomina può essere considerata anche una conferma dell'operato del suo predecessore, l'ex sindaco Carlo Angelo Vezzini. Sì, noi abbiamo iniziato insieme questa avventura ormai nel 2006 e l'abbiamo portata avanti nel primo mandato, io come assessore e successivamente come vice sindaco per questo decennio. Quindi sicuramente questa vittoria è anche un po' la conferma e è un giudizio probabilmente di merito anche sull'amministrazione uscente. Ecco, il suo paese, Sessi Uniti, è a ridosso di uno degli insediamenti industriali più grandi sicuramente della provincia di Cremona, Larvedi. L'impatto ambientale ovviamente si fa sentire, ci sono azioni che intende intraprendere? Come affronterà questa situazione? Noi abbiamo sempre seguito questa realtà industriale che, come diceva giustamente, ha un forte impatto ambientale e è di rilievo anche dal punto di vista occupazionale. È una realtà che insiste su tre comuni, Sesto, Spinadesco e il comune di Cremona prevalentemente, quindi all'interno di quell'osservatorio a cui partecipa anche il comune di Sesto, che è l'osservatorio Armedi e di cui fa parte l'ASLARP e la provincia, si vanno a individuare quegli interventi e quelle azioni di monitoraggio sulla realtà. Ecco, per finire un suo commento all'esito di queste elezioni? Sì, innanzitutto non si potrà lasciare un dato importante che è il forte estensionismo, Sesto si attesta sul 63% degli eventi di diritto che sono andati a votare. Questo è un trend a livello di comuni che della provincia sono andati al voto, ma anche un trend nazionale. Questo sicuramente fa dispiacere di fronte a chi non sceglie di esercitare quel diritto che è anche dovere al voto. Dall'altro lato per noi c'è la piena soddisfazione nella possibilità di continuare questa azione amministrativa. Benissimo, grazie dunque alla nostra ospite Francesca Viccardi e insomma tante buone cose per questo suo mandato. Grazie. Grazie.